Ad un passo dalla storia, la frata Nardò vince ancora contro la pallacanestro Roseto, in gara 2 mantiene il fattore campo in finale e si avvicina alla serie A2, granata semplicemente a incomiabili nella giornata di ieri, in una sfida totalmente diversa rispetto al primo duello vinto in maniera inequivocabile dalla truppa di Battistini. Gli abruzzesi infatti preparano bene la partita e riescono ad andare negli spogliatoi sul 27-39, grazie ad un parziale monster di 3-18. A rientro dagli spogliatoi, il Toro arriva sul parquet con maggiore determinazione, trascinato dai senatori Stella e Bielic, i cui punti saranno decisivi per il recupero nell'ultimo quarto. A nulla servono i 21 punti di Ruggero, che sbaglia la tripla nel finale. Nardò supera per 66-64 Roseto e bola sul 2-0. Prossimo impegno fissato a venerdì per il sodarizzo della famiglia Durante, il sogno si avvicina. In Cigold nella giornata di giovedì sarà tempo per gara 2 playoff. La Virtus Molfetta avrà la possibilità di chiudere i giochi dopo il successo esterno di Mola. Per la formazione, allenata dal coach De Bellis, l'opportunità è ghiotta, considerando anche il fattore campo a disposizione. Ma occhio ai Molesi! Non poteva che esserci chiusura migliore dunque per il massimo livello regionale pugliese, in attesa dello spareggio con la formazione campana perdente ai playoff e di una possibile ulteriore fase interregionale.